salve come funziona il vostro te salve benvenuto allora in pratica funziona così al primo piano per di un chilo sono 25 euro al secondo piano per di due chili che sono 50 euro al terzo piano per di 10 chili e sono 500 euro però è ma siamo sicuri che funzioni tranquillo scientificamente testato che funzioni non si preoccupi bene dai allora voglio iniziare col primo piano è male molto grasso e le consiglierei di iniziare dal terzo piano sì per adesso proviamo con il primo poi se va bene passiamo il prossimo va bene dai come vuole lei sono 25 euro se mi prendi sono tua allora com'è andata prova a pesarti funziona ho preso un chilo veramente bene bene si ferma qua o sale al secondo piano salgo al secondo quanto è perfetto sono 50 euro se mi prendi sono tua ninja che parla e stavolta te piglio o 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 Allora, com'è andata? Prova a pesarti ora, sì sì, vai vai Ma funziona davvero allora? Allora che fa? Si ferma o procede al terzo? Sa cosa le dico? No, cosa mi dice? Passo al terzo Sono 500 euro, si può comodare sopra Amore! Ehi, mi hai chiamato? Se ti prendo, sei il mio E-Taggons E-Taggons Backstage, video, se mi prendi sei? Sono tu Sono tu, ecco sì Ok, cosa facciamo? Dobbiamo aumentare il sedere di Cola Non è abbasto il mio È ingrassato Cola Dobbiamo fare l'ingrassato Venne, come lo vedi a questo ragazzo? Eh, lo vedi, sembrava che sei cagato addosso col pallorino Il cosiddetto pannizzo Pannizzo Ah, pannizzo E va bene, siamo qua a Milano, secondo il giorno di riprese Siamo oggi con Sofia Che cazzo? Gli è arrivata qualche... Che cazzo è? E stavo dicendo Che oggi c'è Sofia qua Andrei ad Alissa in ogni giocaggia Siamo pronti per le riprese Cosa ci racconta Sofia? Non vedo l'ora di essere ripresa da questi due cristiani Ripresa?